Ciao a tutti amici, volevo farvi vedere una cosa come è cambiato proprio. Oggi la comunicazione è questa, una volta era questa. Eccola. Le cartoline. Aspettavamo con ansia che arrivavano le cartoline dell'estate, che poi alla fine manco arrivavano, arrivavano a dicembre. E oggi ci ritroviamo a fare le storie con questi video. Però almeno le cartoline rimanevano, non credete? E un domani cosa succede con queste storie? Rimangono? Questi video rimangono? Se non vengono salvati, scaricati, messi su degli hard disk, messi su delle chiavi, li dovete salutare, un domani succede qualcosa. Anche YouTube perdiamo tutto qua. Quindi quello che vorrei proporre è questo. Ricordandoci sempre in buon vento di una volta che si facevano tutte queste lettere, la cosa più logica sarebbe archiviare e fare i video che poi ve li registrate anche su delle chiavette, perché fin quando le roba rimangono sui vostri canali e compagnia bella, sono lì. Ma voi effettivamente non avete niente in mano, non credete? Anche le foto su Facebook, su Insta, cosa vi rimane in mano? Le foto dove sono? Lì. E quando le volete dovete aprire quel profilo. E quando perdete il profilo? E se succede qualcosa a Facebook o a Insta, che abbiamo perso le foto. Quindi io propongo di stampare le foto, a meno quelle che ci tenete, non tutte, perché ci sono certe foto inguardabili. Soprattutto non quelle ritoccate, evitate di ritoccarvi, soprattutto a chi si fa le labbra, le guancia, che già è bella, no? Che cazzo vi ritoccate a fare? Che senso ho? Detto questo vi saluto, vi faccio vedere anche dove sono. A Parigi. E vi faccio vedere... Vediamo se riesco. Voilà. Al Moulin Rouge. Guardate che bello. Detto questo vi saluto. Ciao a tutti quanti. Guardate il mio canale, condividete i miei video se vi piacciono. Solo se vi piacciono. Se non vi piacciono, fate una cosa. Non condividete niente. E un abbraccio a tutti. Ciao.